L'operazione Le Grotte prende il nome dal luogo in cui veniva depositata e spacciata la droga, l'abitazione di un 23enne in Largo Grotte, nel centro storico di Andria. Dieci persone, tutte andriesi, sono state arrestate, cinque in carcere, cinque ai domiciliari, per detenzione e spaccio di stupefacenti. Proseguono invece le indagini per circa 20 persone e potrebbero scattare nuovi provvedimenti per favoreggiamento nelle prossime ore. Sequestrate anche due chili di droga, fra cui 800 grammi di cocaina. La banda di spacciatori non era collegata ad alcun gruppo criminale, ma monopolizzava il mercato della droga nella città vecchia per un giro d'affari che fruttava oltre 3.000 euro al giorno. Gli spacciatori facevano sconti ai clienti affezionati, offrendo la droga a prezzi più bassi, talvolta anche gratis. Le indagini, coordinate dal PM Alessandro Pesce e svolte dagli uomini del commissariato di polizia di Andria, sono partite ad agosto 2014 a seguito di una rapina a mano armata in un negozio di vernici nel centro di Andria. Le persone implicate nella rapina erano legate all'attività a dispaccio. Dalle intercettazioni telefoniche è emerso che la droga veniva chiamata con il nome di liquori famosi per specificare il tipo di stupefacente. Belis per la cocaina, Montenegro per l'eroina. La droga proveniva da Palo del Colle, cittadina del Barese, dove fu arrestato un individuo divenuto poi collaboratore di giustizia. Era destinata soprattutto a clienti del sud barese e della Basilicata. L'attività di indagine, condotta dal commissariato di polizia di Andria con l'ausilio del reparto prevenzione crimine Puglia settentrionale, del reparto volo e di unità cinofile della questura di Bari, è stata coordinata dalla procura della Repubblica di Trani.